Questa la via, questa la casa, questo il giardino, vanità dei ricordi. Mi accorgevo bene, visitando dopo lunghi e lunghi anni il paesello veronato, dove avevo passato l'infanzia alla prima giovinezza, che esso, pur non essendo in nulla mutato, non era affatto qual era rimasto in me, nei miei ricordi. Per sé dunque, il mio paesello non aveva quella vita di cui io per tanto tempo avevo creduto di vivere, quella vita che in tanto altro tempo aveva nella mia immaginazione seguitato a svolgersi in esso, ugualmente, senza di me, e i luoghi e le cose non avevano quegli aspetti che io con tanta dolcezza di affetto avevo ritenuto e custodito nella memoria. non era mai stata quella vita se non in me, ed ecco, al cospetto delle cose non mutate ma diverse, perché io ero diverso, quella vita mi appariva irreale, come un sogno, una mia illusione, una mia finzione di allora. E vani perciò tutti i miei ricordi, credo sia questa una delle più tristi impressioni, forse la più triste, che avvenga di provare a chi ritorni dopo molti anni nel paese natale. Vedere i propri ricordi cadere nel vuoto, venire meno a uno a uno, svanire, e ricordi che cercano di rifarsi vita e non si ritrovano più nei luoghi, perché il sentimento cangiato non riesce più a dare a quei luoghi la realtà che si avevano prima, non per se stessi, ma per lui. E provai, avvicinandomi a questo e a quello degli antichi compagni di infanzia e di giovinezza, una segreta, indefinibile ambascia. Se al cospetto ad una realtà così diversa, mi si scopriva illusione la mia vita da allora, coi miei antichi compagni, vissuti sempre fuori e ignari della mia illusione. Com'erano? Chi erano? Ritornavo a loro da un mondo che non era mai esistito, se non nella mia vana memoria, e facendo qualche timido accenno a quelli che per me erano ricordi lontani, avevo paura di sentirmi rispondere, ma dove mai? Ma quando mai? Perché, seppure, a quei miei antichi compagni, come a tutti, l'infanzia si rappresentava con la più suave poesia della lontananza. Questa poesia certamente non aveva potuto mai prendere nell'anima loro quella consistenza che aveva preso nella mia, avendo essi di continuo sotto gli occhi il paragone della realtà misera, angusta, monotona, non diversa per loro, come diversa appariva a me adesso. Domanda è notizia di tanti, e con meraviglia che era un tempo angoscia e dispetto, vidi, a qualche nome, certi fisioscularsi, altri atteggiarsi di stupore o di disgusto o di compassione. E in tutti era quella pena quasi sospesa, che si prova alla visita di uno che, pur con gli occhi aperti e chiari, vada nella luce a tentoni, cieco. Mi sentivo raggelare dall'impressione che quelli ricevevano nel vedermi chiedere notizia di certuni che, o erano spaliti, o non meritavano più che uno come me se ne interessasse. Uno come me non vedevano. non potevano vedere che io muovevo quelle domande da un tempo remoto, e che coloro di cui chiedevo notizia erano ancora i miei compagni d'allora. Vedevano me, qual ero adesso, e ciascuno di certo mi vedeva a suo modo. Sapevano degli altri, loro sì, sapevano come si erano ridotti. Qualcuno era morto, poco dopo il mio allontanamento dal paese, e quasi non si serviva più memoria di lui. Ora, immagine sbiadita, attraversava il tempo che per lui non era stato più, ma non riusciva a rifarsi vivo nemmeno per un istante, e rimaneva palli da ombra di quel mio sogno lontano. Qualche altro era andato a finire male. Prestava umili servizi per campare la vita, e dava del lei rispettosamente a coloro coi quali da fanciullo e da giovanotto trattava da pari a pari. qualche altro era stato anche in prigione, per furto. E uno, Costantino, eccolo lì, guardia di città, pezzo di impertinente che si divertiva a sorprendere in contravenzione tutti gli antichi compagni di scuola. Ma una più viva meraviglia provai nel ritrovarmi l'improvviso intimo amico di tanti che avrei potuto giurare di non aver mai conosciuto, o di aver conosciuto appena, o di cui anzi mi durava qualche ingrato ricordo, o di istintiva antipatia, o di sciocca rivalità infantile. E il mio più intimo amico, a detta di tutti, era un certo dottor Palumba, mai sentito nominare, il quale, poveretto, sarebbe venuto certamente ad accogliermi alla stazione, se da tre giorni appena non avesse perduto la moglie. Pur sprofondato nel cordoglio della sciagura recentissima, però, il dottor Palumba agli amici, andati a fargli le condoglianze, aveva chiesto con ansia di me se ero arrivato, se stavo bene, dove ero alloggiato, per quanto tempo intendevo di trattenermi in paese. Tutti, con commovente umanità, mi informarono che non passava giorno che quel dottor Palumba non parlasse di me a lungo, raccontando con particolari inesauribili, non solo i giochi della mia infanzia, le birichinate di scolaretto, e poi le prime ingenue avventure giovanili, ma anche tutto ciò che avevo fatto, da che mi ero allontanato dal paese, avendogli sempre chiesto notizie di me a quanti fossero in caso di dargliene, e mi dissero che tanto affetto, una così ardente simpatia dimostrava per me in tutti quei racconti, che io, pur provando per qualcuno di essi, che mi fu riferito un certo imbarazzo e anche un certo sdegno e avvilimento, perché, o non riuscivo a riconoscermi in esso, o mi vedevo rappresentato in una maniera che più sciocca e ridicola non si sarebbe potuta immaginare, non ebbi il coraggio di insorgere e di protestare. Ma dove mai? Ma quando mai? Chi è questo Palumba? Io non l'ho sentito mai nominare. Ero sicuro che, se così avessi detto, si sarebbero tutti allontanati da me con paura, correndo ad annunziare ai quattroventi. Sapete, Carlino Ber si è impazzito, dice di non riconoscere Palumba, di non averlo mai conosciuto. O forse avrebbero pensato che per quel po' di gloriola che qualche mio quadretto mi ha procacciata, io ora mi vergognassi della tenera, devota, costante amicizia di quell'umile caro dottor Palumba. Zitto dunque? No, che zitto, mi affrettai a dimostrare anch'io una vivissima premura, di conoscere intanto la recente disgrazia di cui il mio povero intimo amico. Oh caro Palumba, ma guarda! Quanto me ne dispiace! La moglie, povero Palumba, e quanti figlioli hai lasciati? Tre! Eh già, sì, dovevano essere tre. E piccini tutti e tre, sicuro, perché aveva sposato da poco. Meno male però, ti aveva in casa una sorella nubile? Eh già, sì sì, come no? Me ne ricordavo benissimo. Gli aveva fatto da madre, quella sorella nubile? Oh, tanto buona, tanto buona anche lei. Carmela? No. Angelica? Ma guarda un po' che smemorato. Antonia? Già, Antonia, Antonia, ecco, adesso mi ricordavo benissimo. E c'era da scommettere che anche lei, Antonia, non passava giorno che non parlasse di me. A lungo? Eh sì, proprio. E non solo di me, ma anche della maggiore delle mie sorelle parlava, della quale era stata compagna di scuola fino al primo corso normale. Per Dio! Quest'ultima notizia mi afferrò, dirò così per le braccia, e mi inchiodò lì a considerare che, infine, qualcosa di vero doveva esserci nella givissarata amicizia di questo palumba per me. Non era più lui solo, c'era anche Antonia adesso, che si diceva amica ad una delle mie sorelle. E costaia affermava ad avermi veduto tante volte piccino in casa mia quando veniva a trovare quella mia sorella. Ma è mai possibile. Sbaniavo tra me e me con crescente orgasmo. È mai possibile che di questo palumba soltanto io non abbia serbato alcun ricordo, la più lieve traccia nella memoria. Luoghi, cose e persone, sì, tutto era divenuto per me diverso. Ma, infine, un dato, un punto, un fondamento, sia pur minimo di realtà, o meglio, di quella che per me era realtà allora, le mie illusioni lo avevano. Poggiava su qualche cosa la mia finzione. Avevo potuto riconoscere vani i miei ricordi, in quanto gli aspetti delle cose mi si erano presentati diversi del mio immaginare, eppure non mutati, ma le cose erano. Dunque, e quando mai era stato per me questo palumba? Dove e quando era mai stato per me questo palumba? Ero, insomma, come quell'ubriaco, che nel restituire in un canto deserto la gozzoviglia di tutta la giornata, vedendosi di improvviso un cane sotto gli occhi, assalito da un dubbio atroce, si domandava, questo l'ho mangiato qui, quest'altro l'ho mangiato lì, ma questo diavolo di cane, dove l'ho mai mangiato? Bisognava assolutamente, dissi a me stesso, che io vada a vederlo e che gli parli. Io non posso dubitare di lui. Egli è, qua, per tutti, di fatto, l'amico più intimo di Carlino Bersi. Io dubito di me. Carlino Bersi, finché non lo vedo. Che si scherza? C'è tutta una parte della mia vita che vive in un altro e della quale non è in me la minima traccia. È mai possibile che io viva così in un altro, a me del tutto ignoto, senza che ne sappia nulla. Oh, via, via, non è possibile, no. Questo cane io non l'ho mangiato. Questo dottor palumba deve essere un fanfarone, uno dei soliti cianciatori delle farmacie rurali, che si fanno belli all'amicizia di chiunque fuori del cerchio del paesello nativo sia riuscito a farsi comunque un po' di nome, anche di ladro e merito. Ebbene, se è così, ora lo accomodo io. Egli prova gusto a rappresentarmi a tutti come il più sciocco burlone di questo mondo? Vado a presentarmi gli sotto un finto nome. Gli dico che sono il signor e il signor Buffardelli, ecco, amico e compagno d'arte e di studio a Roma di Carlino Bersi, venuto con lui in Sicilia per un'escursione artistica. Gli dico che Carlino è dovuto ritornare a rotta di collo a Palermo per rintracciare alla dogana i nostri bagagli con tutti gli attrezzi di pittura che avrebbe dovuto arrivare con noi. E che intanto, avendo saputo della disgrazia capitato al suo dilettissimo amico dottor Palumba, ha mandato subito me, Filippo Buffardelli, a farle condoglianze. Mi presenterò anzi con un biglietto di Carlino. Sono sicuro, sicurissimo, che egli abboccherà l'amo. Ma dato e non concesso che egli veramente mi abbia una volta conosciuto e ora mi riconosca, ebbene, non sono per lui un gran burlone? Gli dirò che ho voluto fargli questa burla. Molti degli antichi compagni, quasi tutti, avevano stentato in prima a riconoscermi e di fatti mi accorsevo io stesso ad essere molto cambiato, così grasso e barbuto, adesso senza più capelli, ahimè. Mi feci indicare la casa del dottor Palumba e andai. Ah, che sollievo! In un salottino fiorito di tutte le eleganze provinciali mi vidi venire innanzi uno spilungone biondastro, in papalina e pantofole ricamate, col mento inchiodato sul petto e le labbra stirate per aguzzare gli occhi e a guardare di su i cerchi degli occhiali. Mi sentii subito riavere. No, niente, neppure un briciolo di me nella mia vita poteva essere in quell'uomo. Io non lo avevo mai veduto, di sicuro, né egli aveva mai veduto me. Buff, come ha detto, scusi? Buffardelli, a servirla. Ecco qua, ho un biglietto per lei di Carlino Bersi. Ah, Carlino mio! Prorupe giubilante il dottor Palumba, stringendo e accostando alle labbra quel biglietto, quasi per baciarlo. E come non è venuto? Dov'è? Dov'è andato? Se sapesse come ardo di rivederlo, che consolazione sarebbe per me una sua visita in questo momento. Ma verrà. Ecco, sì, mi promette che verrà. Caro, caro! Ma che gli è accaduto? Gli dissi dei bagagli andati a rintracciare alla dogana di Palermo. Perduti, forse. Quanto se ne afflisse quel caro uomo. C'era forse qualche dipinto di Carlino? E cominciò a imprecare all'infame servizio ferroviario. Poi a domandarmi se ero amico di Carlino da molto tempo, se stavamo insieme anche di casa, a Roma. Era meraviglioso. Mi guardava fisso fisso e con gli occhiali, facendomi quelle domande, ma non aveva negli occhi se non l'ansia di scoprirmi nel volto se fosse sincera come la sua, la mia amicizia, e pari al suo il mio affetto per Carlino. Risposi alla meglio, compreso com'ero e commosso da quella meraviglia. Poi lo spinsi a parlare di me. Oh, bastò la spintarella, lieve, lieve di una parola. Un torrente mi investì da aneddoti stravaganti. Di Carlino bimbo, che stava in via San Pietro e tirava dal balcone frecce di carta sul nicchio del padre beneficiale. Di Carlino ragazzo, che faceva la guerra contro i rivali di piazza San Francesco. Di Carlino a scuola e di Carlino in vacanza. Di Carlino, quando gli tirarono in faccia un torso di cavolo, per miracolo non lo accecarono. Di Carlino, comediante, marionettista e cavallerizzo, e lottatore e avvocato e bersagliere, e brigante, e cacciatore di serpi e pescatore di ranocchie. E di Carlino, quando cade da un terrazzo su un pagliaio, e sarebbe morto se un enorme aquilone non gli avessi fatto da paracadute. E di Carlino? Io stavo ad ascoltarlo sbalordito. No, che dico sbalordito? Quasi atterrito. C'era sì, c'era qualcosa in tutti quei racconti che forse somigliava lontanamente ai miei ricordi. Erano forse quei racconti ricamati sullo stesso canovaccio dei miei ricordi, ma con radi puntacci sgarbati e sbilenchi. Potevano essere, insomma, quei racconti, pressapoco i miei stessi ricordi, vani allo stesso modo e inconsistenti, e per di più spogliati da ogni poesia, immiseriti, resi sciocchi come rattrappiti, e adattati al misero aspetto delle cose, all'affliggente angustia dei luoghi. E come ed onde erano potuti venire a quell'uomo che mi stava di fronte, che mi guardava e non mi riconosceva, che io guardavo e... ma sì, forse fu per un guizzo di luce che gli è scorsi negli occhi, o forse per un'inflessione di voce, non so. Fu un lampo! Sprofondai lo sguardo nella lontananza del tempo e a poco a poco ne ritornai con un sospiro e un nome. Lo Verde. Il dottor Palumba si interruppe, stordito. Lo Verde, sì, disse. Io mi chiamavo prima Lo Verde, ma fui adottato a sedici anni dal dottor Cesare Palumba, capitano medico, che... ma lei, scusi, come lo sa? Non seppi contenermi. Lo Verde, sì, ora ricordo, in terza elementare, sì, ma conosciuto appena. Lei come... lei mi ha conosciuto. Ma sì, aspetta. Lo Verde, il mio nome? Carlo. Ah, Carlo, dunque, come me? Ebbene, non mi riconosci proprio? Sono io, non mi vedi? Carlino Bersi. Il povero dottor Palumba restò come fulminato. Levò le mani alla testa mentre il viso gli si scomponeva tra guizzi nervosi quasi pinzato da spilli invisibili. Lei? Tu? Carlino? Lei? Tu? Ma come? Io? Oddio, ma che? Fui crudele, lo riconosco, e tanto più mi dolgo della mia crudeltà, in quanto quel poverino dovette credere senza dubbio che io avessi voluto prendermi il gusto di smascherarlo di fronte al paese con quella burla, mentre ero più che sicuro della sua buona fede, più che sicuro ormai da essere stato uno sciocco a meravigliarmi tanto, perché io stesso avevo già sperimentato tutto quel giorno che non hanno alcun fondamento di realtà, quelli che noi chiamiamo i nostri ricordi. Quel povero dottor Palumba credeva di ricordare. S'era infatti composta una bella favola di me, ma non me ne ero composta una anch'io, per mio conto, che era subito svanita appena rimesso il piede nel mio paesello natale. Gli ero stato un'ora di fronte e non mi aveva riconosciuto, ma sfido, vedeva entro di sé Carlino Bersi, non quale io ero, ma come egli mi aveva sempre sognato. Ecco, ed ero andato a svegliarlo da quel sogno. Cercai di confortarlo, di calmarlo, ma il pover uomo in preda a un crescente tremor convulso di tutto il corpo, annaspando, con gli occhi fuggevoli, pareva andasse in cerca di sé stesso, del suo spirito che si smarriva e volesse trattenerlo, arrestarlo. E non si dava pace e si guidava a balbettare. Ma come? Che dice? Ma dunque lei, cioè tu, tu dunque, come? Non ti ricordi? Che tu, che io? Grazie. Grazie. Grazie.